L'argomento di questa lezione è il neoclassicismo, un movimento artistico e letterario che si sviluppò tra la seconda metà del Settecento e i primi decenni dell'Ottocento, inizialmente nelle arti figurative, poi anche nella letteratura, nella moda, nel costume e persino nell'arredamento. Il nome rimanda al classicismo dell'umanesimo e del rinascimento, che consisteva in un ritorno ai testi e all'arte del mondo antico greco e romano, la civiltà classica praticamente, civiltà ammirata come modello di sapienza e di perfezione formale. Il prefisso neo significa nuovo ed indica infatti un nuovo ritorno ai classici, con lo scopo di recuperarne la semplicità e la razionalità, adeguandole però all'anima della modernità. E modernità voleva dire illuminismo. Infatti il neoclassicismo incarna gli ideali dell'illuminismo. La ragione è fonte di conoscenze di principi universali, di regole e quindi di equilibrio e di armonia. Voglio dire che l'imitazione dei modelli dell'antichità corrisponde alla volontà di recuperare non soltanto le antiche forme di bellezza, ma anche la razionalità e l'equilibrio morale che quelle forme esprimevano. Per i pensatori illuministi infatti l'arte e la letteratura in particolare devono ispirarsi alla ragione ed essere utili alla società, evitando quindi dismisure e passioni scomposte. Per cui questo ritorno ai criteri classici della regolarità, dell'equilibrio, della semplicità e dell'armonia, questo ritorno, dicevo, si inserisce molto bene nel clima dell'illuminismo. L'idea è quella di superare l'esperienza del barocco artificioso in nome di un'arte più semplice e composta. Questo movimento in sostanza vuole adeguare la tradizione classica al mondo moderno, tradurre quindi la bellezza ideale racchiusa nelle opere del passato nel mondo moderno. Un impulso alla sua nascita viene dagli scavi archeologici di Ercolano ripresi nel 1738 e quelli di Pompeo iniziati nel 1748. Queste scoperte suscitarono entusiasmi, passioni ed ammirazioni per l'antico, non solo negli specialisti ma anche nell'opinione pubblica, dall'ammirazione per questi reperti riportati alla luce dopo secoli, si diffonde poi un culto per l'antichità considerata come epoca perfetta con un ideale di bellezza superiore ad ogni altra epoca, compito dei moderni e perciò imitare questo modello di bellezza antica. A questo evento poi si aggiungono gli studi di arte classica, soprattutto quelli di Johann Joachim Winkelmann, che suscita un'ammirazione per l'arte e la civiltà antica. E allora parliamo di Winkelmann, che è il teorico del neoclassicismo. È un archeologo tedesco, è uno storico dell'arte, vive a Napoli, a Roma ed esercita una forte influenza sulla letteratura del suo tempo. Winkelmann esprime le proprie idee in due libri, considerazioni sull'imitazione delle opere greche nella pittura e nella scultura che è del 1755 e storia dell'arte nell'antichità del 1764. Secondo lui l'arte greca è superiore a qualsiasi altra arte, anche quella romana, perché ha raggiunto vette estetiche inarrivabili. Questo perché ha realizzato l'ideale del bello assoluto ed eterno, cioè ha realizzato le opere più belle in assoluto di una bellezza eterna che resta immutabile nei secoli, al di là dei possibili cambiamenti del gusto. Ma come si può definire questa bellezza? Secondo lui la bellezza artistica di una statua non si raggiunge imitando il bello naturale, quello che si può osservare nella natura, ma realizzando una sintesi superiore dei singoli aspetti belli presenti nella natura. In altre parole l'artista non deve rappresentare la realtà così com'è, visto che contiene anche elementi non belli, ma deve rappresentare la realtà ideale con una bellezza che nella realtà non esiste. Inoltre le opere d'arte devono rappresentare una nobile semplicità e una quieta grandezza. Che significa? Lasciamolo spiegare allo stesso Wingelman che ne scrive a proposito della scultura Laoconde e i suoi figli, opera che si trova nei Musei Vaticani. Questa scultura descrive un episodio narrato nell'Eneide di Virgilio, in cui si parla del sacerdote troiano Laoconde che fu trascinato in mare, assieme a entrambi i suoi figli, da due enormi serpenti marini mandati da Atena affinché Laoconde non ostacolasse il piano dei Greci per la conquista di Troia. Laoconde infatti aveva ammonito i suoi concittadini di non fidarsi del cavallo inviato in dono dai loro rivali. Ecco come lo descrive Wingelman. Infine, la generale e principale caratteristica dei capolavori greci è una nobile semplicità e una quieta grandezza, sia nella posizione che nell'espressione. Come la profondità del mare che resta sempre immutabile per quando agitatane sia la superficie, l'espressione delle figure greche per quando agitate da passioni, mostra sempre un'anima grande e posata. Quest'anima, nonostante le piatroci sofferenze, si palesa nel volto del Laoconde e non nel volto solo. Il dolore che si mostra in ogni muscolo e in ogni tendine del corpo e che al solo guardare il ventre convulsamente contratto senza badare né al viso né ad altre parti, quasi crediamo di sentire a noi stessi. Questo dolore, dico, non si esprime affatto con segni di rabbia nel volto e nell'atteggiamento. Il Laoconde non grida orribilmente come nel canto di Virgilio. Il modo con cui apre la bocca e in modo con cui la bocca è aperta non lo permette, piuttosto ne può uscire un sospiro angoscioso e oppresso. Il dolore del corpo e la grandezza dell'anima sono distribuiti con uguale misura in tutto il corpo e sembrano tenersi in equilibrio. Laoconde soffre, ma il suo patire ci tocca il cuore, ma noi desidereremmo poter sopportare il dolore come quest'uomo sublime lo sopporta. Insomma, Wengelmann mette in contrapposizione i muscoli in tensione dellaoconde nel tentativo di divincolarsi dai serpenti con la sua espressione che è sì sofferente, ma non è scomposta. Il dolore nel volto di Laoconde si concretizza, come dice Wengelmann, in una bocca che lascia uscire solo un respiro affannoso e non grida orribili come quelle che Virgilio attribuisce al suo Laoconde nell'Eneide. È dunque questo che Wengelmann intende per quieta grandezza, cioè la capacità di controllare le pulsioni, l'abilità nel riuscire a comunicare in modo misurato ed equilibrato le sensazioni come in questo caso il dolore di Laoconde. Wengelmann paragone i capolavori dell'arte greca al mare. Per quanto possa essere turbata la superficie dalle onde, il fondo rimarrà sempre tranquillo. Allo stesso modo i greci, pur in mezzo alle passioni più turbolende, riuscivano comunque a comunicare l'idea di una equilibrata grandezza dell'anima. E tale anima pervade tutta l'opera, nel senso che la grandezza dell'anima di Laoconde che sopporta il dolore si percepisce proprio dal contrasto tra l'espressione e il movimento dei muscoli. La quieta grandezza del personaggio si riflette anche nella posa che l'artista sceglie per rappresentarlo. Anche in questo caso si evitano pose eccessivamente bizzarre, virtuose, scomposte e incontrollate. Si preferiscono pose semplici, ma che al contempo riescano a comunicare anch'esse la grandezza di un'anima nobile. Ecco quindi perché nobile semplicità. Nelle sculture poi devono essere messe al centro l'uomo e la sua bellezza sublime, il che si ottiene rappresentando l'uomo stesso nudo e senza ornamenti artificiosi, perché la bellezza, come nei capolavori greci, è semplice e proporzionata. Come si può vedere nell'Apollo di Belvedere, in Amore e Psiche di Antonio Canova, ritenuto il più bravo scultore dell'epoca, oppure nelle Tre Grazie sempre di Canova. All'interno del neoclassicismo sorsero poi diverse tendenze, diciamo così. Negli anni della rivoluzione francese al culto dell'antichità come fonte di bellezza, si affianca il culto dell'antichità intesa come fonte di sentimenti eroici e libertari. Si parla in questo caso di classicismo rivoluzionario. I rivoluzionari guardano alle virtù civiche degli antichi greci e romani per trarne esempi di libertà ed uguaglianza, identificandosi negli eroi antichi di Atene, di Sparta e della Roma repubblicane. Come dimostra il caso di Jacques-Louis David, che fu il pittore ufficiale della rivoluzione francese. Questo per esempio è un suo dipinto intitolato Il giuramento degli Orazzi, mentre questo ritrae l'episodio famoso delle sabine che mettendosi in mezzo fanno cessare le ostilità tra romani e sabini. E questo invece è il rivoluzionario Marat assassinato, rappresentato un po' come il Cristo, cioè il giusto ucciso. Con l'avvendo poi di Napoleone il regime viene identificato negli imperatori romani. Lo stile neoclassico diventa quindi celebrativo e propagandistico. Si rifà i modelli della Roma imperiale e interessa anche i settori dell'arredamento, degli abiti, delle acconciature e per cui si parla di stile impero. E qui possiamo vedere come lo stesso David, celebri dopo gli eroi rivoluzionari, anche Napoleone ritratto mentre sta per varcare le Alpi. O come in questo dipinto ritragga Napoleone incoronato imperatore. A celebrare Napoleone è anche Antonio Canova, il più importante artista del neoclassicismo italiano che dedica all'imperatore francese la statua di Marte Pacificatore. La caduta di Napoleone poi segna la fine del neoclassicismo. Oltre al classicismo rivoluzionario vi è anche un classicismo che guarda al mondo antico come un mondo di armonia, di bellezza, di vitalità, serenità. Un mondo da contrapporre nostalgicamente al presente imbarbarito, anzi da far rivivere nel presente. È il caso del poeta Ugo Foscolo per il quale la civiltà italiana ha ereditato in qualche modo lo spirito di quella greca. Insomma, il neoclassicismo da un lato vagheggia un bello ideale nitido, raffinato, lontano dalla passione, ma poi finisce per avvicinarsi a posizioni romantiche quando predominano l'ansia di evasione dalla realtà e la nostalgia del passato. E infine passiamo alla letteratura. Anche i poeti neoclassici come gli artisti considerano le opere della letteratura greca e latina come modelli di insuperabile perfezione e tendono di tradurle cercando di restituire tale perfezione oppure si ispirano a queste opere riproducendone i generi e le forme come la satira, l'ode o la tragedia. Negli argomenti fanno largo uso di miti e di personaggi classici, ma si interessano comunque anche al loro tempo. Tuttavia, anche quando parlano di avvenimenti recenti, come per esempio i primi viaggi in Mongolfiera o le imprese e Napoleone, che li trattano, paragonandoli alle opere, alle imprese omeriche o trasfigurandoli in eroi mitologici. I poeti si rivolgono a un pubblico colto e raffinato, in grado di cogliere i riferimenti classici. Per loro poi limitazione e emulazione, cioè una gara di bravura con il modello per tentare di superarlo. Il maggiore scrittore italiano, il maggiore scrittore neoclassico italiano fu Vincenzo Mondi, che tradusse tra le altre cose in Endecasilla e Bisciolti l'Iliade di Omero. Sempre in Italia, invece, Ugo Foscolo scrisse, oltre a un romanzo che manifestava una sensibilità preromantica, come le ultime lettere di Acco Portis, scrisse due odi neoclassiche, a Luigia Pallavicini caduta da cavallo e all'amica risanata, e a conclusione della sua carriera poetica, le grazie, forse l'opera più riuscita del neoclassicismo italiano. Grazie per l'attenzione.